Mi chiamo Valerio Cervelli, dirigo la carta di chirurgiaplastica dell'Università di Roma Tor Vergata e ho raccolto l'invito del professor Bartoletti per coadiuvarlo nell'organizzazione della sessione di medicina e di chirurgia rigenerativa nel congresso Sime dall'11 al 14 maggio, che andrà ad affrontare quelli che sono gli argomenti più caldi e più recenti nella chirurgia rigenerativa, quindi l'utilizzo di cellule staminali, l'utilizzo dei fattori di crescita e tutte le tecnologie di cui disponiamo per la misurabilità dei risultati e per oggettivare i risultati, quindi per passare da ciò che è l'empirismo soggettivo a quello che è l'oggettività del risultato. Da Galileo in poi la scienza è sempre stata misurabilità e ripetibilità dei concetti e delle metodiche che noi andiamo ad utilizzare. Ancora grazie al professor Bartoletti, vi aspetto tutti al congresso nella sessione di chirurgia rigenerativa. Grazie a tutti.